Eccoci ritornati insieme e sono felicissimo di ritrovare negli studi di Padre Pio TV un caro amico della nostra emittente, Don Salvatore Miscio. Buongiorno, ben ritrovato. Carissimo Tony, bentrovati, bentrovati a tutti voi telespettatori. Ci fai stamattina un gran dono con la tua presenza, ma non solo perché tu da ormai diversi anni ti dedichi anche alla scrittura e ci fai dono delle tue opere. E' appena uscito, possiamo dire benissimo così, la tua quarta fatica letteraria è bello da enfatizzare un po', anche se credo che scrivere sia un piacere per chi ama comunicare. Sì, è un piacere sicuramente, è anche un bisogno, un bisogno perché mettere per iscritto intanto ti aiuta a fermare, quasi a rendere come un monumento le parole che ti porti dentro, i vissuti che ti porti dentro. E poi è un bisogno anche perché hai la possibilità di condividerlo, no? E ti rendi conto che quello che ti porti dentro ha un potenziale enorme soltanto nei momenti in cui altri lo leggono, altri possono farlo proprio e magari avviare altre storie dentro di loro. Ecco, una bellissima premessa per parlare di Ruth e l'arte della cura, il tuo nuovo libro con un sottotitolo molto bello, Esercizi per vivere il battesimo ogni giorno. Abbiamo anche una copertina molto particolare, quindi non mancheranno i temi su cui discutere, abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma partirei proprio dalla copertina, così facciamo le cose per ordine. Sì, vabbè, intanto il titolo chiaramente porta subito l'attenzione su Ruth, che è la protagonista di questo piccolissimo libro della scrittura contenuto nell'Antico Testamento, tra il libro dei giudici e il primo libro dei re, che è uno dei libri più piccoli, appena appena quattro capitoli, ma di una storia intensissima. E Ruth è una delle due donne protagonista della storia, però è quella che fa una scelta chiara per la cura. Ecco perché Ruth è l'arte della cura, e quindi il tema della cura che a me è sembrato centrale, anche in questo momento, dei nostri vissuti sociali, politici, e soprattutto dal punto di vista ecclesiale della fede, perché mi sono accorto che in questa arte della cura c'è un po' la sostanza di tutta quella misericordia. Del resto la parola che vediamo raffigurata, la parola ebraica che vediamo raffigurata in copertina, questo disegno realizzato da un giovane della mia parrocchia, Paolo, che ringrazio, significa proprio esced, che è proprio l'arte della cura. E poi tu facevi riferimento agli esercizi per vivere il battesimo, perché alla fine di ogni capitolo ho indicato quelli che sono degli esercizi molto pratici, molto concreti, proprio per attivare quell'impegno che nasce dal nostro battesimo. E infine mi permetto di sottolineare che c'è la prefazione di Domenico Battaglia, che è il Vescovo di Napoli, che oltre a essere una figura di riferimento dal punto di vista ecclesiale molto importante, molto bella per la sua diocesi, ma anche per l'Italia, è anche una persona che mi dona un po' la sua amicizia e la sua ricchezza spirituale, per cui lo ringrazio anche per questa prefazione molto bella che arricchisce il volume. Grazie a te Don Salvo, anche perché io il libro ce l'ho qui tra le mie mani e il libro, oltre che essere un oggetto, come dire, metafisico, perché con il suo contenuto ci fa viaggiare, ci fa riflettere, ci fa meditare, è anche un oggetto fisico. E devo dire che la casa editrice Ave ha fatto davvero un ottimo lavoro, perché il libro si presenta accattivante, molto ben fatto e invita alla lettura, proprio perché dicevi che il libro di Rutte è un libro piccolo, anche questo è un piccolo scrigno, ma che sono certo contiene tante bellissime perle, e se lo sfoglio effettivamente è diviso in tanti piccoli capitoletti, posso definire così? Sì, sì, sono dodici capitoli, perché per ogni capitolo del libro di Rutte ne sono quattro, io ne ho scritti tre, perché di fatto è una storia densissima, molto densa, bella, che va letta forse tutta ad un fiato, innanzitutto perché ha bisogno di questa sua unicità, di questa unità della storia, ma al tempo stesso è una storia che ti chiede di fermarti, passo per passo, per coglierne le sfumature. E mentre cogli le sfumature della storia, sei aiutato a cogliere le sfumature della tua stessa esistenza. Ecco, prima ci dicevi che scrivere è un modo per te, per fissare dei concetti, per riflettere, probabilmente succede la stessa cosa quando leggiamo. Oggi purtroppo non si legge moltissimo, tanto più che siamo distratti da un milione di altre cose. Quanto trovi terapeutico il gesto di leggere, ecco, e secondo te dovrebbe essere una buona pratica quotidiana? Beh, a me piace molto leggere, mi rendo conto che la lettura mi costringe a cambiare il ritmo. È un po' quello che fanno i mosaici che troviamo nella cripta di qui a San Giovanni Rotondo, di San Pio, dove proprio all'ingresso dei mosaici ci sono queste scritte a malapena percettibili, perché per una questione anche di colore, ma anche di grafica, che si perde tra i mosaici, ma di fatto ha proprio la funzione terapeutica di cambiare il ritmo, di costringerti a rallentare. E quindi la lettura rispetto a un video, rispetto a tutto ciò che scorre sullo schermo di un display, di fatto ci costringe a rallentare. E poi ci costringe ad andare dentro di noi, rispetto a un video che invece ti chiede di stare in superficie, di esercitare la tua capacità di attenzione, di seguire con gli occhi quanto accade, al massimo con le orecchie percepire i suoni, i racconti, ma una lettura invece è come se ogni lettera impressa sul foglio, in qualche maniera vada a imprimersi anche sul tuo cuore, sulla tua mente. E questo libro senza dubbio la favorisce la lettura, perché dicevamo ha un formato smart, accattivante. A me lo dico perché tante volte i libri molto grandi mi intimoriscono un po', invece i libri maneggevoli mi invitano alla lettura. E questa lettura è facilitata anche dai capitoletti di cui ci parlava prima, che hanno un titolo che è già quello anche, ti aiuta, ti invoglia ad approfondire. Uno dei paragrafi che leggo a pagina 55, uno dei capitoletti che leggo a pagina 55, porta questo titolo, si cerca il necessario e si trova l'abbondanza. Sì, è un titolo che in qualche maniera riprende quello di cui parla la storia, cioè Rutte a un certo punto, spinta anche dalla fame e dal bisogno, va a spigolare per portare a casa qualcosina da mangiare, ma quel giorno tornerà a casa non solo con qualcosina da mangiare, ma con qualcosa di più e soprattutto con la benevolenza di una giornata nella quale ha incontrato delle persone buone, ma scoprirà poi più tardi che addirittura quegli incontri diventeranno risolutivi per tutta la loro vita. Quindi è, come dire, un'esperienza molto bella che è capitata a chi è stato audace nel cercare il necessario, ma di fatto parafrasa in qualche maniera una frase proprio di Francesco D'Assisi che diceva sempre ai suoi fraticelli di impegnarsi a fare il necessario e scoprire poi di essere capaci di realizzare addirittura l'impossibile. Molto bello questo richiamo anche a San Francesco, io voglio agganciarmi ad un altro paragrafetto che mi fa riflettere su tante volte l'abbondanza, a volte anche il superfluo in cui viviamo in questi giorni e l'incapacità di saper apprezzare le piccole cose. E infatti ad un certo punto uno dei tuoi capitoli è intitolato proprio così «Saper accettare un dono». Che cosa ci racconti in queste pagine invece? Sì, lì metto in evidenza come l'importanza di saper accogliere un dono diventa fondamentale perché un dono non è soltanto qualcosa che gratuitamente ti raggiunge ma anche il gesto compiuto da una persona che condivide con te. È un gesto che in qualche maniera crea dei compromessi, crea una complicità e questa complicità non va mai sciupata, va sempre custodita e quindi è importante. L'arte di accettare un dono è qualcosa di importante anche perché di fatto ci chiede anche una sorta di esposizione. Chi riceve un dono si espone, in qualche maniera crea uno spazio comune dove quel dono ha un senso, dove quel dono viene accolto con gratitudine. E quindi è fondamentale saper accettare un dono ancora prima che farlo perché mentre farlo in qualche maniera può essere una manifestazione di forza, di potenza accoglierlo invece è una manifestazione anche di umiltà, è una manifestazione anche di benevolenza. E quindi, ripeto, accogliere un dono chiede di fare uno spazio nuovo nella propria vita. Non a caso quando riceviamo un regalo, appena torniamo a casa, dobbiamo trovare il luogo dove collocarlo e molto spesso siamo costretti a reimpostare gli spazi della nostra vita. E questo è un dono, soprattutto se questo dono è una persona, è una parola, è un'attenzione, è un amore. E grazie Don Salvatore. Oggi i tuoi impegni ti vedono molto preso un po' in tutta la nostra diocesi e anche oltre perché sei assistente ecclesiale regionale per il settore giovani di azione cattolica e assistente regionale della Puglia per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi io approfitterei della tua presenza qui oggi per chiederti di restare qualche altro istante con noi giusto il tempo di una piccola pausa pubblicitaria. Tre oggetti per vivere e alimentare la fede. Una corona del rosario profumata con un elegante pieghevole per l'enunciazione e il commento dei misteri. Una statuetta di San Pio da Pietrelcina benedicente e una bottiglietta d'acqua con la sua effigie per conservare l'acqua santa. Per te in offerta a soli 20 euro, comprese le spese di spedizione. Il frattempo negli studi di Padre Pio TV ci ha raggiunto anche Maria Pia Picciafuoco che ha preso posto dall'altra parte dello studio e che salutiamo e ringraziamo per essere con noi anche stamattina. Buongiorno Maria Pia. Buongiorno, buongiorno innanzitutto al nostro carissimo Don Salvatore. Un abbraccio affettuoso da qui. Siamo a pochi metri di distanza. Caro Don Salvo, ti ho ascoltato naturalmente con grande attenzione. Oggi stiamo aspettando ovviamente la parola illuminante di Papa Francesco che già nelle catechesi scorse ha parlato di fede e speranza. Terza virtù teologale che ci aspettiamo è l'amore, la carità. Ci vuoi dire anche tu qualcosa di originale come sai fare? Grazie Maria Pia, ma io approfitto perché visto che stiamo parlando dell'arte della cura sicuramente tutto il libro di Ruth illustra come la scelta appunto caritatevole di spendere la vita nella cura dell'altro sicuramente rigenera la fede di Noemi che a un certo punto dopo i lutti tragici della sua vita di fatto guarda Dio non più con tanta fiducia e quindi questa fiducia viene rigenerata proprio dalla cura di Ruth e questo diventa anche un motivo di speranza per Noemi e per il popolo che vede la sua storia ricollocarsi nuovamente nell'alvio della promessa. Quindi di fatto la cura che è la forma di amore e della carità di fatto rigenera sia la fede che la speranza. Molto bello. L'aggiornamento prevede anche che io vi indichi sul sito della Santa Sede se volete riepilogare un po' tutto oppure le news cioè la sintesi assoluta delle cose essenziali che sono accadute appunto in Vaticano ma voglio segnalarvi che c'è già pronto il messaggio proprio di Francesco per la giornata dei nonni che celebriamo lo sapete a luglio quest'anno cade il 28 di luglio mettere i giovani contro gli anziani è una manipolazione nella vecchiaia non abbandonarmi questo è il tema scelto da Papa Francesco per quella che sarà la quarta giornata mondiale dedicata sia ai nonni ma in generale a tutti gli anziani si denuncia la grave mentalità individualista che si è diffusa sicuramente qui abbiamo anche appunto il sito relativamente a notizie che riguardano altre realtà della Chiesa andiamo ad aggiornarlo tra qualche istante di fatto io vi aggiorno su un'altra faccenda noi abbiamo sempre sott'occhio anche coloro che si impegnano da sempre per la famiglia oggi avete visto anche dalla mia pagina che è la giornata appunto mondiale dedicata alla famiglia e ci sono degli elementi chiave perché sono 30 anni che si celebra a livello civile questa giornata pensate che in Italia i matrimoni sono passati in questo trentennio da circa 292.000 a 190.000 ovviamente parliamo di tutti i matrimoni non solo di quelli religiosi il crollo dunque è di oltre il 35% qui caro Salvatore come vanno le cose? beh da noi al sud ci si sposa ancora ci si sposa ancora anche dal punto di vista religioso però il calo è evidente anche da noi ma io credo che sia anche una questione diciamo demografica cioè che di fatto la popolazione sta diminuendo e stanno diminuendo i giovani quindi di fatto diminuiscono coloro che potenzialmente possono sposarsi così come sono in tanti a rimandare il momento della celebrazione sia civile che religiosa anche per motivi economici per motivi pratici, logistici a volte per cui ne abbiamo ancora oggi coppie che si sposano e si sposano anche in maniera religiosa quindi col matrimonio canonico diversi anni dopo la convivenza dopo aver avuto anche diversi figli perché magari si creano le condizioni economiche familiari e sociali per convolare a nozze per cui penso che il fenomeno avrebbe bisogno di letture multiple e complesse quindi non tanto un discredito nei confronti dell'istituto matrimoniale che sicuramente ha visto un cambiamento di sensibilità però sicuramente un cambiamento delle condizioni che possano permettere di fatto una vita matrimoniale Certo, rispetto a questo vi ricordo possiamo andare anche a rileggere l'articolo 31 della Costituzione che fa obbligo alla Repubblica di agevolare appunto con misure economiche e sociali proprio la realtà della famiglia non voglio toglierti troppo la parola è stato un piacere come sempre poi ecco questo spaccato di vita vera ci fa apprezzare ancora di più il libro di Don Salvatore che ci aiuta appunto a riflettere sui valori più importanti della nostra vita tra questi sicuramente appunto l'arte della cura come cita lo stesso titolo del suo quarto libro nella foto che stiamo vedendo nel Maxi Schermo ecco abbiamo una rappresentazione plastica anche dei libri che hanno preceduto Rutte, l'arte della cura Don Salvatore, ecco prima di salutarci mi faceva piacere fare un piccolo escursus lungo le tue pubblicazioni e poi magari non dobbiamo anche dimenticarci di dire ai nostri telespettatori dove possiamo trovare i tuoi libri allora partiamo dalle tue pubblicazioni come hai iniziato a scrivere e a pubblicare e come ecco si è sviluppato il tuo percorso il tutto è nato con un testo che io diciamo avevo in qualche maniera approntato già come tesi di laurea in teologia e che era un lavoro proprio sulla produzione musicale di Fabrizio De Andrè e se ricordi Tony quando tu eri giovanissimo e facevi radio con Radio Padre Pio abbiamo fatto una trasmissione proprio sulla ricerca di Fabrizio De Andrè beh quel testo poi è diventato un libro nel 2016 ha avuto la sua prima pubblicazione e negli anni è un libro che ha girato tantissimo ancora oggi vado in giro a presentarlo il 7 giugno sarò a Nocera Inferiore per una serata dedicata proprio a Fabrizio De Andrè e quest'anno in occasione del 25esimo della sua morte la casa editrice Ave che saluto e ringrazio anche per la grande fiducia che mi accredita ha voluto farne una nuova edizione poi nel 2022 sono nati due libri uno è per una chiesa sinodale mai senza i giovani che in verità è parte di un lavoro del mio dottorato in teologia e l'altro è perché mi cerchi che sono sempre esercizi di ascolto a partire da alcuni brani del Vangelo di Luca e poi quest'anno, questo ultimo anno è nato questo lavoro sul rutto che voglio dire in qualche maniera è anche un po' il frutto di questo cammino anche degli incontri fatti nelle presentazioni dei libri precedenti perché solo il libro di De Andrè mi ha portato per ben più di 100 presentazioni in giro per tutta l'Italia e questo ti permette veramente uno scambio un arricchimento importante poi De Andrè mi ha permesso di dialogare con tutti anche con persone dalla formazione dalla sensibilità molto molto diversa e quindi questo è davvero molto bello e sto notando che anche qui anche Ruth, la storia di Ruth che di fatto è la storia di donne la storia di donne straniere di donne in emigrazione di famiglie costrette purtroppo dalle vicissitudini della famiglia a ridisegnare i propri equilibri i propri confini di fatto sta permettendo un dialogo molto bello a 360 gradi sulla vita e sull'esistenza Sì, anche questo in effetti è un libro molto attuale ed importante Don Salvo, prima dei saluti finali dove possiamo trovare i tuoi libri? Allora, intanto si possono ordinare online ma anche in qualsiasi libreria perché di fatto il circuito che segue l'AVE è un circuito molto molto diffuso Molto bene Quindi è facile averli Allora, noi invitiamo tutti quanti i nostri amici e le nostre amiche che ci seguono da casa a leggere i libri di Don Salvatore Miscio sicuramente saranno ricchi di tanti spunti di riflessione e giunti a questo punto anche se con dispiacere lo dobbiamo salutare perché tra un po' ci risposteremo in piazza San Pietro a Roma per l'udienza generale di Papa Francesco Grazie per essere stato con noi Don Salvatore Grazie Tony, sembra un piacere e un saluto ai cari amici telespettatori Grazie a tutti Grazie a tutti